Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio dal titolo La società dell'inquisizione, uomini, tribunali e pratiche del sant'uffizio romano di Danny Solera pubblicato da pochissimo da Carocci, 224 pagine per 23 euro e io come mia abitudine non rubo altro tempo perché voglio ascoltare la storia dell'inquisizione, è un argomento che mi interessa tantissimo, quindi lascio la parola a Danny Solera, prego. Grazie, grazie a lei e grazie a tutti coloro appunto i video spettatori perché è un piacere essere con voi, avere a che fare con la vostra associazione che è molto ben conosciuta, ben nota all'interno del mondo della storia, non solo medievale e grazie appunto di questo invito perché è sostanzialmente tra i primi in cui ho la possibilità di presentare pubblicamente, di discutere questo libro frutto di una lunga ricerca che poi appunto vi illustrerò insomma nel dettaglio, ma soprattutto ecco dicevamo è tra i primi con cui presento il libro perché oggi è appunto la data ufficiale in cui esce in libreria il libro. Ecco subito un dato come dire puntuale ma che già ci introduce poco a poco al tema del libro perché la prima copia ecco stampata del libro è arrivata nei pressi della Santa Sede ecco in Vaticano e a me ha fatto anche molto piacere perché è quasi una sorta di ritorno all'origine per questa ricerca perché è nata soprattutto grazie alle fonti originali archivistiche conservate in tre istituti della città del Vaticano quindi archivio del sant'uffizio, oggi congregazione per la dottrina della fede, la biblioteca apostolica e l'archivio segreto Vaticano quindi questi tre grandi tesori dell'umanità per i beni artistici documentali che conservano appunto è partita da lì ed è tornata in qualche modo lì e spero insomma che sia una ricerca non solo frutto di come spesso accade di ringraziamenti, di riconoscenza di colleghi, lettori eccetera ma mi auguro che nel piccolissimo ecco di questa di questo studio stimoli una una riflessione, una discussione anche critica volentieri sui temi che la ricerca ha indagato che ha tentato di presentare in un'ottica leggermente diversa insomma innovativa e storiograficamente diversa. Innanzitutto partiamo dal titolo quando uno capita in libreria che fa guarda, legge il titolo, prende in mano il libro e già dal titolo uno potrebbe pensare che è una ricerca che non ha nulla a che fare col medioevo, con l'Italia medievale potremmo dire, perché appunto il santo uffizio romano, che è parte del titolo del libro, viene fondato ufficialmente con una bolla papale, l'Alice Tabinizio, nel 1542. Ecco siamo più o meno alla metà del 500, il concilio di Trento è stato convocato però non si è ancora aperto, è in corso la grande diatriba che porterà la divisione della Repubblica Cristiana in più di confessioni religiosi diverse, è l'Italia ma soprattutto l'Europa divisa anche militarmente su fronti diplomatici diversi a causa delle diatribe della dottrina, varie appunto interpretazioni della dottrina cristiana. Ebbene appunto uno potrebbe pensare che questo ha a che fare con la storia moderna, con il 500, 6, 700 eccetera eccetera. Ebbene invece la parte medievale è stata assolutamente fondamentale per la mia ricerca. Infatti ho dovuto discutere vari temi, vari problemi che proprio affondano le radici nel 200, nel 300, nel 400, per poi arrivare a interpretare alcuni aspetti parimenti importanti, soprattutto legati all'impostazione, vi dico cos'è un'inquisizione, ma soprattutto delle confraternite religiose che affiancarono, e poi le vedremo, l'azione del Tribunale di Fede. Per descrivere in generale questa opera ed apporse il punto generale innovativo rispetto al quadro storiografico precedente, potrei descrivervi qual è stata la mia vicenda con questo argomento. Perché appunto tento di indagare la storia dell'inquisizione, soprattutto appunto moderna, dal 500 in poi, in questa fascia temporale che va dal 5 al 7-800, possiamo dire, da un punto di vista che è stato leggermente trascurato dalla storiografia italiana, ma anche internazionale, ossia quello della storia sociale. Chiunque immagina, se facciamo un brainstorming a proposito dell'inquisizione romana, che cosa gli viene in mente? Gli viene in mente l'inquisitore, il nome della rosa, caccia agli eretici, le streghe, Martino Lutero, i papi severi a condannare le eresie, l'indice dei libri proibiti, eccetera, eccetera. Quindi grandi figure di persecutori, quindi inquisitori, papi, concini, eccetera, eccetera, e grandi figure allo stesso tempo di perseguitati, quindi eretici, streghe, i benandanti di Ginzburg. Insomma, questa doppia faglia, no? Chi si dava la caccia appunto e chi veniva appunto cacciato. E quindi, come dire, si è venuta sviluppando, soprattutto nel corso dell'ottocento e novecento, una storiografia prima apologetica, molto politicizzata, confessionalizzata, a proposito dell'inquisizione e poi via via, sempre più laica, sempre più storiograficamente corretta, che si è interessata all'argomento inquisizione in quanto istituzione persecutrice, dedita appunto a stabilire che cosa è ortodossia, che cosa è eresia. L'ho portato appunto a uno sviluppo di studi, monografie, collettane, saggi, soprattutto nella seconda metà del novecento, dedicate alla dimensione religiosa, quindi, di questo tribunale, quindi dedicata veramente alla materia dottrinale stabilita dall'inquisizione e poi imposta al resto della popolazione e anche, oltre alla dimensione religiosa, alla dimensione istituzionale del tribunale. Quindi, chi erano gli inquisitori, la storia della congregazione romana. Nel 1542 nasce la prima congregazione pontificia, quella appunto del Santo Uffizio e della Generale Universale Inquisizione, e quindi si è andato a indagare chi erano i cardinali membri, chi erano i segretari, chi erano eccetera eccetera. Quindi abbiamo ottimi, numerosi e ottimi studi su questi due piani, queste due lenti, direbbe Mark Bloch, attraverso le quali abbiamo indagato l'inquisizione. Poi via via con la, come dire, evoluzione storiografica abbiamo avuto ottimi studi non solo dedicati a grandi figure dell'eterodossia, almeno secondo la visione classica dell'astrografia. Quindi quando indico il termine di eterodosso, ortodosso, non è una, come dire, un uso valutativo, ma storico, ecco, uso questi termini in senso storico. Quindi si sono indagate non solo le grandi forme, le grandi figure dell'eterodossia, Martin Lutero, Calvino, eccetera eccetera, ma anche movimenti, saperi, che erano appunto rimasti latenti nella società quattro-cinquecentesca che l'azione dell'inquisizione portò alla luce. E qui appunto riferimento ai beneandanti, ai saperi appunto delle valli che erano rimaste escluse dalla, come dire, dalla propagazione del cristianesimo e del cattolicesimo. Quindi abbiamo avuto studi anche su quel versante di cultura popolare, di cultura sociale, possiamo dire, di storie notturne, come appunto le ha definite Carlo Ginzburg in un celebre libro. Quindi quando ormai più di un decennio fa mi sono accostato per puro interesse personale, insomma stavo facendo la tesi magistrale alle fonti inquisitoriali, che documenti mi sono stati offerti dai docenti, processi inquisitoriali. Quindi materia di natura giuridica, il che presuppone già considerare l'inquisizione come un tribunale, sempre nell'ottica, nella dimensione che abbiamo appena discritto un'istituzione preposta a risolvere dei problemi di natura religiosa. Quindi il mio interesse è stato appunto rivolto a indagare un aspetto che ovviamente è presente in queste ricerche, ma secondo me era stato ampiamente sottovalutato, sottoindagato, ossia la dimensione sociale di questo tribunale. Perché è un dato ovvio, se ci pensiamo, pensa appunto concepire l'inquisizione, l'istituzione inquisitoriale come espressione della società del tempo. Al di là della leggenda nera che vuole appunto proporci un'inquisizione come un ente cattivo, perverso, che si impone sulla società e la persegue, la vitupera in tutte le maniere, sadicamente, con torture, eccetera, eccetera. L'attento studio delle fonti invece ci dimostra una cosa ben diversa, cioè che l'inquisizione in parte ovviamente si rese responsabile di queste pratiche, ma soprattutto fu, cosa ovvia, ma fu una creatura istituzionale, ma del proprio tempo. Quindi espressione a sua volta di paure, di ansie, di desideri, di progetti anche, come dire, apologetici, però sempre propri della cultura religiosa e non del suo tempo, del 400, del 500 e di ogni epoca in cui l'inquisizione ha operato. Quindi la mia, come dire, la mia attenzione si è focalizzata su una, come dire, uno strato, possiamo dire, intermedio della creatura dell'istituzione inquisitoriale. Se noi immaginiamo l'inquisizione come una piramide, l'immagine torna molto utile. Al vertice ovviamente abbiamo il papa, che è il vertice indiscusso dell'inquisizione, poi abbiamo la congregazione dei cardinali e gli inquisitori. Invece dall'altro capo della, proprio alla base della piramide, abbiamo i perseguitati, quindi eretici, streghe, miscredenti, blasfemi, eccetera, eccetera. Quindi la mia attenzione è stata appunto spostare l'indagine nei moltissimi alti gradini, possiamo dire, di questa piramide, perché la piramide in realtà è molto estesa. Perché? Perché a un attento studio anche solo dei processi che ricevetti, era facile accorgersi che molte altre persone, sempre all'interno dell'inquisizione, dovevano per forza di cose svolgere una miriade di funzioni. Chi metteva la gente in carcere, chi scriveva i verbali, chi costudiva i documenti, chi difendeva proprio la persona fisica dell'inquisitore, oppure chi andava a notificare per le strade le sentenze di inquisizione. Sono tutte cose che sfuggono a chi legge un processo, che appunto c'è il corpo dell'inchiesta, le domande, le risposte, e se uno è fortunato trova la sentenza. La cosa ovviamente fu molto più complessa, molto più immediata, e vide appunto l'azione di molte altre persone, alle quali appunto è corretto riferirsi con i temini di patentati. Chi sono i patentati dell'inquisizione romana? Sono tutti coloro, tutte le persone, che svolsero un servizio all'inquisizione romana in cambio di una patente, di una lettera patente, come era detto. Ossia di un attestato, vera e propria lettera scritta dall'inquisitore, in cui appunto il frate riconosceva la tal persona, fra i propri coadiutori, collaboratori, in cambio di un'enormità di privilegi, che erano appunto di tre nature distinte. Vi erano privilegi di natura giurisdizionale, giuridica, ed è il caso del privilegio del foro inquisitoriale. È molto nota l'importanza del foro ecclesiastico per i sacerdoti, per i membri del clero, che non erano soggetti per questo alla giustizia civile. Ebbene, chi servì in inquisizione era addirittura esentato dal controllo dei tribunali anche ecclesiastici, poiché solo i vertici dell'inquisizione erano autorizzati a perseguirlo, ovviamente in una, come dire, in un grado di severità molto attenuata, perché appunto si trattava di giudicare i propri servitori. Poi vi erano privilegi di natura, noi potremmo dire, di ordine pubblico, di natura militare, poiché i patentati dell'inquisizione ebbero il privilegio del porto d'armi. Armi che potevano essere bianche, quindi da taglio, spade, pugnali, eccetera, ma soprattutto armi da fuoco, quindi archibugi, che erano le armi classiche, almeno per il Cinquecento, ma soprattutto tutte le armi che proprio dalla metà del Cinquecento in poi vennero evolvendosi a partire dall'archibugio e quindi archibugi corti, detti terzaroli, terzarole, mazzagatti, sono termini che ricorrono nei documenti, oppure le pistole, i pistoni, cioè gli antenati, possiamo dire, delle pistole contemporanee. A noi può sembrare una banalità, oppure possono sembrare pezzi veramente arcaici, ma le sole innovazioni tecniche di questi pezzi permettevano cose che prima non erano possibili, ad esempio, una cosa molto banale ma deleteria per l'ordine pubblico, il poter nascondere questi pezzi sotto un mantello o tra i bottoni di un panciotto, eludendo in questa maniera i controlli delle guardie civili. Quindi i patentati di inquisizione erano, potevano portare qualsiasi tipo di armi, molto pericolose, potevano essere tranquilli di non essere più soggetti alla giurisdizione di altri tribunali e poi avevano un altro privilegio che le cui, possiamo dire, conseguenze ancora condizionano l'Italia contemporanea ai noi, ossia l'esenzione fiscale. Chi serviva all'inquisizione poteva contare nella illusione più totale dei propri beni, sia mobili, guardate bene, che immobili, quindi proprietà, rendite agrarie, l'affitto di beni che saranno andati in concessione, oppure le tasse dovute alla gestione di botteghe, di manifatture, eccetera, ebbene tutto questo non poteva essere più tassato e quindi a conseguenza lo Stato, gli Stati italiani dell'epoca, erano costretti a spostare l'aggravio economico, diciamo il peso fiscale diremmo noi oggi, sul resto della popolazione e quindi causando un disordine, malumore, tensioni sociali senza fine. Quindi attraverso appunto la storia sociale è stato indagato tutto il personale dell'inquisizione romana, a partire, come dicevamo, almeno dalla metà del Cinquecento in poi, secondo tre gradi appunto che io ho voluto almeno distinguere a righe molto molto larghe tra personale dell'inquisizione. Il primo, diciamo, di questi gradi è stato dedicato a coloro che furono i vertici delle singole inquisizioni locali. Noi dobbiamo immaginarci che a Roma, dal Cinquecento in poi, opera la congregazione romana, un gruppo ristretto di cardinali, ma soprattutto vengono via via moltiplicandosi sul territorio del centro e nord Italia, soprattutto e in qualche altra città fuori dalla penisola italiana, delle piccole corti di giustizia inquisitoriale. Quindi ovviamente abbiamo un'inquisizione a Venezia, ce l'abbiamo a Milano, le grandi capitali dell'Italia e preunitalia, ma queste a loro volta moltiplicano le vicarie sul territorio e queste a loro volta ne moltiplicano altre, quindi abbiamo veramente un diramarsi del controllo inquisitoriale sul territorio. Questa struttura territoriale fu molto diversa da zona a zona, anche in conseguenza dei rapporti spesso turbolenti che ciò provocò appunto nei confronti sia del potere statale secolare, possiamo dire, sia del potere vescovile, perché appunto si trattava appunto di gestire il controllo del territorio, dei sudditi fedeli e appunto tutto ciò che riguardava anche molti aspetti della vita personale dei fedeli. E quindi se noi prendiamo una qualsiasi di queste corti di giustizia territoriali, quindi del tutto anonima, diciamo dal punto di vista storica, ma rappresentativa di quella che era la media, la situazione media in giro per il centro e nord Italia, ho tentato e più volte invitato il lettore a compiere un viaggio all'interno di questi ambienti, come se un giorno uno dovesse aprire la porta di uno di questi piccoli tribunali e capire chi avrebbe potuto incontrare, dove, con che frequenza, chi faceva cosa, chi avrebbe chiesto cosa, proprio per capire qual era anche l'estrazione sociale di queste persone, gli interessi che li muovevano a entrare a far parte dell'inquisizione e di converso come il resto della popolazione che restava esterna alle patenti inquisitoriali e soprattutto ai privilegi, poteva reagire. Quindi capite che gli interessi vanno via via rendendosi sempre più complessi, perché non si trattava più di credere o non credere in una determinata dottrina difesa dalla Chiesa romana, ma si trattava anche di opportunismi, di interessi economici, di essere esclusi da altri privilegi, di subire le violenze altrui e quindi ecco che la storia religiosa, la lente della storia religiosa e sociale ci torna molto più utili per, come dire, intercettare problemi di questa sorta. E quindi nel primo gruppo che ho individuato ho indagato coloro che furono sostanzialmente i vertici di queste piccole, di queste singole corti di giustizia inquisitoriale. Il primo ovviamente è l'inquisitore, a proposito del quale ho scritto varie pagine in questo primo capitolo, in cui tento di smontare molti punti della leggenda nera attraverso quale la figura dell'inquisitore soprattutto è stata interpretata. Sono pagine straordinarie della letteratura, ma se voi pensate ad esempio alle pagine di Dostoevsky, la leggenda del grande inquisitore, della Siviglia, in cui appunto questo magnifico viaggio mentale che Dostoevsky ci invita a compiere il grande inquisitore dell'inquisizione spagnola, un altro contesto, eccetera, però ha l'opportunità di incontrare Gesù Cristo tornato sulla Terra per un giorno e i due appunto si scontrano in un celebre dialogo straordinario. Però quella è un'altra pagina della leggenda nera, possiamo dire, a proposito della figura dell'inquisitore, com'è l'inquisitore? Cattivo, abiti da monaco o comunque da frate mendicante, molto severo, magro, alto, quasi che il patimento, l'ortodossia, la difesa strenua dell'ortodossia gli abbia provocato alcune storture anche fisiche, psicologiche, insomma, il suo fenotipo corrisponde appunto ai suoi tratti più intimi della sua indole. Ovviamente Dostoevsky è solo la perla di questa leggenda nera, ma se noi pensiamo tutti i trattati scritti soprattutto in ambito anglosassone, inglese, tra 7 e 800, capiamo insomma cos'è inquisitore da quel punto di vista. E quindi molti aspetti vengono rivisti in queste pagine. Un dato paradossale che però noto a molti che si occupano di inquisizione è che l'inquisitore non gestiva la propria inquisizione, perché spesso all'inquisitore erano demandate solamente pochissime, per carità importanti, funzioni principali. Lui doveva ovviamente presenziare alle sentenze, emanare le sentenze, autorizzare e scrivere in parte le corrispondenze con il resto dell'intervaiatura inquisitoriale e ovviamente con la congregazione romana e tutta un'altra serie di azioni. Chi reggeva invece, chi teneva le redini della singola inquisizione, erano invece molto spesso i vicari. Innanzitutto erano molti di più, perché sono le vicarie che si moltiplicano sul territorio, mentre l'inquisitore rimane nella sede centrale, possiamo dire, del tribunale di fede. E quindi i vicari inquisitoriali, nonostante questo termine che li pone su un livello secondario, erano coloro che veramente conoscevano il tribunale. Innanzitutto perché rimanevano nel singolo tribunale tanti anni rispetto ai mandati dell'inquisitore titolare. E quindi avevano la possibilità di conoscere meglio i propri inservienti, quindi patentati, di sapere, non so, da quanto tempo uno serviva l'inquisitore, da quante generazioni addirittura. Oppure sapere qual era il contesto locale, sociale, dove erano i grossi problemi, come erano i rapporti con il vescovo locale, dove stavano i grandi interessi economici del territorio, la conformazione del territorio. Noi tendiamo a dare per scontato cose che all'epoca non c'erano. Google Maps ora fa miracoli, giusto per stare in un lessico religioso, ma all'epoca era un grosso problema conoscere il territorio, dove stavano i fiumi e i ponti per attraversarli e quanto tempo ci voleva per arrivare a una determinata città. Se voi dovete appunto amministrare la giustizia su un territorio, sono aspetti fondamentali. E quindi tra i documenti che ci ho tenuto particolarmente a pubblicare proprio attraverso immagini nel libro, ci sono due carte geografiche manoscritte prodotte dagli inquisitori, dai vicari inquisitoriali di Modena, dell'inquisizione di Modena, in cui appunto il territorio viene diviso e ogni cittadina, o meglio borgo dell'epoca, pochissime anime in realtà, viene rappresentato con una piccola chiesetta o con termini molto specifici. Sono anche documenti molto belli da vedere dal punto di vista proprio iconografico, della qualità proprio artistica dell'epoca. E quindi oltre gli inquisitori e i vicarichi avremmo potuto incontrare in questi tribunali, ebbene, i notai. I notai sono una figura fondamentale, come sanno molto meglio di me gli esperti di storia medievale. E quindi capite quanti sono gli agganci con questa epoca che ci precede, ma che appunto è fondamentale al di là di un'altra leggenda nera appunto, che è quella che colpisce troppo spesso la storia medievale. Il termine medievale viene usato come sinonimo di cose anacronistiche, oscurantiste, ma questa è un'altra è un'altra leggenda nera. Il notaio perché era essenziale? Spesso nel testo ho provocato il lettore, invitandolo a considerare a che cosa serve un notaio all'inquisizione. Ebbene, per l'inquisizione era fondamentale avere un notaio e averne veramente di affidabili, perché il, come dire, il sigillo della legge, il pieno riconoscimento legale agli atti dell'inquisizione era fondamentale al fine di non ricadere nell'accusa di essere gli inquisitori, i loro vicari, dei partigiani, della gente che vituperava la legge per condannare l'uno o l'altro, per compiere violenze. No, la legge applicata attraverso l'inquisizione doveva essere sinonimo di imparzialità e di rispetto della legge divina, che è appunto la prima al cui servizio si ponevano gli inquisitori. Non furono pochi casi di notai inquisitoriali che invece corretti non furono per niente. Alcuni scapparono con gli incassi della locale inquisizione, in casi celebri, che ho cercato di recuperare attraverso anche lavori di colleghi. Però, appunto, rimasero i notai, assieme ai vicari, che è un'altra figura di cui adesso diremo tra poco, i perni centrali di ogni piccola inquisizione. Ma oltre a questi ufficiali, come venivano definiti, ve ne fu un altro molto importante, che è appunto l'avvocato fiscale. Il procuratore fiscale, avvocato fiscale, era praticamente colui che sapeva tutto. Colui che sapeva come dovevano svolgersi i processi, quali erano le tappe di deliber processuale, quali erano i poteri dell'inquisitore, che domande si potevano fare e quali no, in che caso si poteva concedere la tortura e in quali altri casi no. E quindi qui sfatiamo un altro punto della leggenda nera, questa tortura che viene impiegata a più non posso, in realtà veniva anche quella attentamente codificata e applicata ai casi singoli. E l'avvocato fiscale era importante perché spesso notai, inquisitori e vicari, non sapevano i limiti del diritto, no? Quali erano le procedure. Siamo in un 5-600 in cui i manuali inquisitoriali vengono scritti, pubblicati per la prima volta, quindi è un sapere giuridico che va via via formandosi e soprattutto evolvendo rispetto anche al resto dello scenario della giustizia criminale dell'epoca, insomma. Ultimo di questi ufficiali, diciamo, dell'inquisizione era il mandatario. Il mandatario è il messo, possiamo dire, dell'inquisizione. Noi probabilmente abbiamo più confidenza col messo comunale, no? Ebbene c'era un messo anche dell'inquisizione e la sua venuta, presso la propria abitazione o allo posteria, ovunque il mandatario riuscisse a incrociare la persona specifica, diciamo, del specifico processo, era come trovarsi di fronte all'inquisitore in persona. I poteri delegati al mandatario coincidevano con quelli del giudice titolare e quindi ogni sua azione, ogni suo pronunciamento bisognava appunto prestare il massimo rispetto e la massima attenzione. la sua venuta era un atto di legge. E quindi abbandonato questo primo gruppo di ufficiali che bene o male furono presenti in tutte le inquisizioni attive nel centro-nord Italia, ho tentato di andare in basso ancora verso questa piramide a cui abbiamo accenato prima. Ebbene, oltre questi troviamo un altro gruppo fondamentale di questi patentati inquisitoriali, corrispondente ai consultori. I consultori furono praticamente dei periti, dei sapienti, esperti di tre materie principalmente, ossia di diritto canonico, di diritto civile, quindi i civilisti li definivano all'epoca, e i teologi. A che cosa serviva avere alle proprie dipendenze questi tre consultori, appunto il cui compito era scrivere il consulto, il parere, la perizia di diritto canonico civile e teologia? Perché spesso per l'inquisitore fu difficile pronunciarsi in tribunale, perché non si sapeva che cosa il diritto romano avesse detto a proposito di un crimine, quali erano i documenti papali prodotti a proposito di determinati peccati? Oppure i patri della chiesa, entriamo nella teologia, che cosa, come saranno pronunciati a proposito di determinate vicende? E quindi era molto utile avere questi, questi sapienti sempre pronti a servire inquisizione con un proprio, una propria perizia. Va da sé che qual è era l'estrazione sociale di queste persone? Alta o altissima rispetto alla società dell'antico regime, perché chi aveva possibilità di avere una conoscenza tale, oppure di avere ottenuto dei gradi accademici in grado di fornire tale perizia, ovviamente erano quasi tutti laureati, quindi adottorati nei grandi atenei negli studi dell'Italia preunitaria, i quali però decidevano di mettersi al servizio dell'inquisizione in cambio della patente e dei privilegi connessi. Tra i consultori, ma anche un po' tra tutti questi gradi di patentati, è infatti possibile trovare molti, molti esponenti della nobiltà italiana di antico regime. Alcuni cognomi sono molto più celebri perché appartengono al canone artistico letterario del nostro paese, basti pensare ai leopardi antenati dell'omonimo appunto poeta o ai ferretti antenati di Pio IX e la lista potrebbe veramente ai berri, uno dei berri era membro, aveva una patente inquisitoriale e molti molti altri cognomi molto celebri. Quindi oltre ai consultori, questo altro gradino della piramide inquisitoriale era composta dai familiares dell'inquisizione. Ora con questo termine latino intendiamo una fascia molto importante e specifica della piramide, poiché i familiares erano sostanzialmente i bodyguard, possiamo dire, le guardie del corpo di tutti i gradini che abbiamo appena detto, quindi inquisitore, di cari, notari, eccetera, perché i familiares erano coloro che in prima persona dovevano difendere militarmente l'inquisitore e tutti gli altri ufficiali da che cosa? Da tutto ciò che l'azione inquisitoriale provocava nel contesto sociale, quindi aggressioni agli inquisitori, perseguimenti di tutti i tipi, di offese verbali, non dobbiamo sottovalutare il potere che la parola, questo potere performativo della parola che poteva avere nei contesti sociali dell'epoca. E quello del pericolo della vita fu un pericolo proprio concreto per gli inquisitori dell'epoca, che avevano assunto tra i propri patroni la figura di San Pietro Martire. San Pietro Martire è questa figura, questo Domenicano del 200, inquisitore a Milano, poi a Firenze, ma soprattutto della prima inquisizione milanese, che venne ucciso in spregio alla fede, insomma, come dice il processo canonico, a causa di cosa? Dello sconquasso, dell'irritazione provocata dalla sua azione inquisitoriale in ampia parte dell'elite del contesto sociale in cui, però. Quindi quel caso era assolutamente, per quanto simbolo di santità e incomiabile, eccetera, era assolutamente da evitare. E qui, come dire, indaghiamo un altro aspetto sociale dell'inquisizione. Perché? Perché l'inquisizione si rese ben presto conto di non potersi più permettere il lusso di perdere gli inquisitori, ma soprattutto persone, membri di questo ampio personale, su cui il Tribunale aveva investito molte risorse, molto tempo. Arrivare ad avere un inquisitore preparato, cosciente delle proprie capacità, dei propri limiti, e poi perderlo per un agguato di violenza qualsiasi, era un grande spreco, ovviamente, di personale, un danno d'immagine, ma soprattutto un spreco di risorse fondamentali per arrivare a un controllo della fede, della moralità, ma in tutti i sensi del Tribunale Religioso Ecclesiastico. Quindi questi familiares furono le patenti che più, come dire, attirarono i desideri, gli appetiti dell'elite dell'Italia moderna. Perché appunto, con la sola motivazione di servire l'inquisitore, si potevano avere piena licenza di armi, oltre ai privilegi già accennati primo. Oltre a questo grande secondo gradino dell'inquisizione, arriviamo al terzo e l'ultimo, che è quello più vasto e anche forse il più storicamente interessante e divertente, perché comprendeva dei profili del tutto inusuali, se uno pensa all'inquisizione, che è un enorme, questo enorme gradino io l'ho definito società inquisitoriale, perché veramente, a mio modesto modo di vedere, l'inquisizione riuscì davvero a creare una propria società parallela dotata di patenti inquisitoriali. Una inchiesta pontificia del 600, di metà 600, stimò la quantità di persone in possesso di patente inquisitoriale in diverse migliaia di persone e noi dobbiamo ovviamente, come dire, paragonare queste cifre con quelle dell'Italia preunitaria, quindi molto meno densamente popolata rispetto a quella dei 60 milioni degli attuali italiani. Quindi era molto alta la percentuale, diciamo, di italiani, soprattutto di istrazione medio alta, ad avere almeno una patente inquisitoriale in famiglia. Quindi in questo ultimo gradino una presenza importante è costituita dai croce signati, ed è qui che appunto è questo gruppo che accennavo prima parlando di Medioevo, perché questi croce signati, in termini lo dice già, erano coloro che militavano all'interno di confraternite religiose, quasi tutte votate alla Santissima Croce di Gesù Cristo o alla figura di San Pietro Martire. Questi due termini, questi due appellativi sono praticamente scambiabili perché appunto, diciamo, l'identità era la stessa tra, almeno a livello di figure votive all'interno dell'inquisizione. Quindi i croce signati erano coloro che militavano in queste confraternite che erano, badate bene, state fondate ai tempi della primissima inquisizione, quindi arriviamo alla metà del 200, gli anni di San Pietro Martire, a cui accennavamo prima. Molte delle quali erano rimaste in attività nel 3, nel 4 e nel primo 500, arrivando quindi all'inquisizione moderna. Molte invece erano state soppresse o comunque cadute in disuso, non erano più rimaste attive perché appunto il venir meno dei motivi che avevano portato alla loro fondazione, le avevano portate a una dismissione. Quindi alla metà del 500 si stiamo al proliferare di queste confraternite religiose, alla fondazione ex novo o alla rifondazione di quelle più antiche, sotto stretta sorveglianza inquisitoriale. Ecco, questo è un altro punto molto importante perché è l'unico caso di confraternite religiose poste sotto il controllo indiscusso non del vescovo, badate bene, e siamo anche dopo il concilio di Trento che aveva ribadito a questo punto, ma dell'inquisitore. Quindi l'inquisitore ha responsabilità pastorali, responsabilità d'anime, cura d'anime avremmo detto. Quindi in piena violazione, dicevamo, dei decreti tridentini, di questa nuova chiesa, come dire, questa identità cattolica rifondata dopo il concilio di Trento. Oltre al gruppo dei croce signati avevamo poi questa enorme quantità di patentati che svolgevano per l'inquisizione le mansioni più disparate. Non dobbiamo per nulla sorprenderci se tra i servitori dell'inquisizione non abbiamo solo grandi professori degli Atenei o maestri di teologia, eccetera, eccetera, ma troviamo che cosa? Troviamo aluniami, macellai, fabbri, abbiamo mezzadri, contadini, vinaroli, come venivano detti, cioè addetti alla mescita dei vini, abbiamo degli osti, cioè tutte quelle mansioni tipiche di una società di antico regime e delle città in cui l'inquisizione operò. Che cosa succedeva? Praticamente queste persone davano un servizio a titolo gratuito alla locale inquisizione in cambio della patente dei privilegi. Quindi c'era chi offriva il vino alla tavola dell'inquisitore, chi si offriva di riparare sedie, porte gratuitamente, chi metteva le sbarre alle carceri. Tutti i aspetti di questi ambienti in cui ho invitato più volte il lettore ad entrare con la mente e che però comportavano tutta una serie di conflitti a livello sociale. Se voi siete un'oste dell'Italia del 600 e vi vedete esentato il vino del vostro rivale, del vostro concorrente, capite che il vostro vino costa di più rispetto a quello privilegiato del santo uffizio e voi non vendete più vino. Quindi capite le varie inimicizie. Ma poi all'interno di questo gruppo abbiamo i revisori dei libri che manualmente leggevano, consultavano, tiravano i righi sulle parti da tagliare, dei libri poi finiti agli indici. Abbiamo chi faceva l'avvocato per i rei dell'inquisizione, avevano anche avvocati, i condannati dell'inquisizione, seppur con veramente delle massioni molto molto limitate e prestabilite dai manuali. Ma poi avevamo la gente che controllava le carceri, i processi della storiografia classica inquisitoriale, ci parla di condanne, di ergastoli, di tortura, eccetera, ma nessuno finora ha indagato chi eseguiva la tortura, con che mezzi, dove le compravano le corde, chi garantiva l'inviolabilità delle carceri, chi dava da mangiare ai rei, chi cambiava loro il letto. Sono tutti aspetti che emergono dai documenti che ho consultato. De fortuna ci sono rimasti molti documenti di natura economico fiscale dell'inquisizione romana, quindi sappiamo ad esempio quanto spendeva o quante volte l'inquisitore prendeva il pane alla settimana. E qui appunto c'è un altro documento molto molto unico, anche divertente, su tutti i segni tirati dall'inquisitore per acquistare il pane. Abbiamo liste della spesa, abbiamo inventari che ci raccontano veramente la materialità di questo tribunale, poiché ogni inquisitore che entrava in carica doveva stilare una lista di tutte le proprietà mobili e immobili del singolo tribunale. Perché? Perché bisognava prevenire il rischio che al passaggio tra un inquisitore e l'altro, quasi sempre determinata dalla morte del precedente, sparissero determinate suppellettivi o dei beni, proprio dei contanti, delle monete. Anche quello della fiscalità dell'inquisizione, quindi chi gestisse materialmente, chi prestasse i soldi all'inquisizione per poi svolgere tutta la campagna processuale per cui è noto il tribunale, è un aspetto fondamentale. Perché proprio attorno ai soldi si, come dire, articolavano degli interessi reciproci e soprattutto degli aspetti anche nei confronti delle locali comunità ebraiche molto importanti e che la storiografia ha un po' sottovalutato. Il caso che io ho proposto è quello di Modena, ma anche di Ancona, insomma su vari altri casi che si potrebbero citare, in cui appunto gli inquisitori condannavano, comunque esercitavano un controllo molto serrato della locale comunità ebraica, in cambio poi di prestiti, noi diremmo oggi, agevolati a tassi molto bassi, poiché appunto era molto difficile reperire beni mobili con cui mantenere il proprio tribunale. Altro aspetto molto fondamentale per le comunicazioni dell'epoca era garantire un sistema di posta efficace che permettesse alle informazioni dell'inquisizione di spostarsi da una sede all'altra. Banalmente, se io adesso sono un inquisitore e arresto un reo accusato, preteso accusato di eresilia, di blasfemia, eccetera, mi servirebbe molto capire se è già stato condannato in un altro tribunale. E solamente far arrivare da un altro tribunale, chiedere, far arrivare eventualmente da un altro tribunale informazioni era un problema per l'Italia di antico regime e quindi bisognava avere un servizio di posta specifico che non fosse quello gestito da palti concessi dagli stati, dai poteri secolari, perché il potere secolare era un'istituzione rivale e molto spesso capitava che i pacchi, le lettere destinate agli inquisitori venissero aperte, modificate o derubate. Quindi era bene avere corrieri della posta propri. Insomma, questi sono solamente alcuni dei più significativi, ma anche avvincenti, profili che si misero a servizio dell'inquisizione romana. Fino a quando dura questa storia? Fino a molto di recente, poiché noi sappiamo che con la fine dell'antico regime vennero via via represse le attività delle varie inquisizioni e quindi indotte direttamente o indirettamente alla soppressione tutte le sedi dell'inquisizione romana attive in Italia. Diciamo che le prime furono soppresse nel corso del Settecento dai grandi principi illuminati, quindi ispirati dagli ideali dell'illuminismo, ma le ultime inquisizioni in Italia, poi alcune risorte dopo con la restaurazione del primo Ottocento, le ultime vennero soppresse negli anni, badate bene, negli anni 60, 70, 80 dell'Ottocento. Quindi io ho offerto l'immagine del Corriere della Sera o di Giuseppe Verdi, mentre per le strade italiane si potevano vedere le locandine del Corriere della Sera o quelle delle prime, delle opere celebri di Giuseppe Verdi, sappiate che proprio in quegli anni erano ancora in attività gli inquisitori e tutto questo ampio personale ovviamente in via di disparizione e di soppressione anche di queste ultime inquisizioni. Quindi quello che io ho tentato di fare in estrema sintesi con questo lavoro è indagare una istituzione classica, possiamo dire per la storiografia italiana e internazionale, ma da un punto di vista prettamente sociale, ma allo stesso tempo offrire, come dire, un incitamento agli studiosi che si occupano di Italia medievale, moderna, ma anche contemporanea, per riflettere su quali sono le dinamiche che muovono, che organizzano, che spronano un'istituzione all'interno della società. Non dobbiamo mai indagare un oggetto storico solamente usando un paio di lenti, diceva Mark Bloch, ma lo storico deve avere un kit, deve avere una cassetta piena di queste lenti e sarebbe buona cosa che lo studioso se ne ricordasse e che provasse ogni tanto a cambiarle per avere interpretazioni diverse, ma poi per metterle a sistema, per giungere a una conoscenza sempre più prossima, ecco, a quella che è stata e che è la verità storica. È un argomento complesso, alquanto vasto, direi osservato su una prospettiva effettivamente meno indagata delle altre, per cui davvero interessante. Il Medioevo fa capolino e questo giustifica la nostra presentazione, il nostro incontro. Mi rimane un dubbio, ma quella medievale si chiamava già inquisizione. Guardi, su quella medievale un mio collega ha fatto un pregevole studio per capire quando, a partire da quando, si parla di inquisizione. Il termine viene fuori già nel 1231-1331, proprio possiamo dire all'inizio delle attività inquisitoriali. Ovviamente questa è l'inquisizione con la I maiuscola, ovviamente inquisizione nel termine, nel senso di procedura inquisitoriale, di metodo inquisitoriale, lo troviamo già nel diritto romano, insomma era una forma prevista, ecco, dalla giurisprudenza. Però di inquisizione, noi adesso diciamo ovviamente medievale, all'epoca ovviamente non lo dicevano, però possiamo parlare già dagli anni, dall'inizio degli anni 30 del 200, quindi quando Pietro da Verona fa l'inquisitore, quando è l'anno in cui muore San Domenico, insomma sono passati dieci anni, comunque sono gli anni di San Domenico, qualche anno dopo muore Sant'Antonio a Padova, quindi è proprio l'albore. Sono anche gli anni nei quali sta finendo la crociata albigese. Esattamente, quindi anche capire qual è il polso della società dell'epoca, quali sono le ansie, le paure, insomma, e qui ovviamente i riferimenti sono a tutti gli studi delle emozioni, dei sentimenti che hanno ulteriormente arricchito la possibilità degli storici per guardare un determinato oggetto, insomma. Siamo tutti eredi delle annal e di questa svolta sociale all'interno degli studi storici, dal Medioevo fino agli anni nostri, insomma. Certo. Bene, io credo che a questo punto sia utile ricordare il titolo di questo saggio, che è La società dell'inquisizione. Uomini, tribunali e pratiche del Sant'Uffizio Romano. L'autore è Denis Solera, che abbiamo avuto il piacere di ospitare. L'editore è Carocci. Sono 244 pagine per 23 euro e io, come sempre, quando presento libri così intriganti, non posso che invitare tutti a correre ad acquistarlo. Già da oggi, da domani, lo trovate in libri di casa ovunque. Quindi grazie mille per aver accettato il nostro libro. Grazie a lei. È stato un piacere. Anche per me. Continuate a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche questa videopresentazione, insieme a tutte le altre che abbiamo realizzato in questo infinito anno e mezzo e oltre di pandemia, che ci ha impedito di presentare queste cose in presenza, cosa che è senz'altro più avvincente. Riprenderemo. Ma riprenderemo presto. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Salute. Grazie a voi.